ciao a tutti oggi parlerò dei prodotti che ho ricevuto del look fantastic spero che vi piace il video iniziamo con i prodotti crema quindi che ho ricevuto della look fantastic ed è il primo questo si chiama scusate la pronuncia io pronuncio come riesco però si chiama Philip Kingsley ed è di alta concentrazione studiato per lisciare i capelli donando incredibile morbidezza ed elettricità Philip Kingsley elettricizzante contiene anche le proteine scusate la protezione solare è ultra idratante e molto concentrato capace di lisciare ogni goccia fino a ottenere una straordinaria setosità come si utilizza si devono bagnare correttamente i capelli prima dello shampoo applicare l'elettricizzante su tutta la capigliatura lavorare con le punte due dita lasciare in posa due tre minuti se i tuoi capelli sono molto secchi o aridi lasciare in posa a dieci minuti con una cuffietta perché sottiene un maggiore beneficio di litratazione e lisciare con cura passiamo al secondo prodotto che è questo qua che si chiama oscchialobon rinascence cleaning gel allora questo prodotto contiene ingredienti sono naturali questo prodotto alta tecnologia tra cui la vasta gamma di vitamine e nutrienti essenziali della pelle il gel idratante rinascimentale osca è un detergente gel originale è il migliore nel suo genere aiuta a rafforzare l'illuminare e rivitalizzare la pelle le vitamine C e D sono note per le loro proprietà riparatrici e lavorano per proteggere dagli attacchi di radicali liberi e dall'ambiente le vitamine che sono presenti sono l'altobacillo che è un'enzima della zucca vitamina A fonte di omega 6 e il magnesio e la vitamina B2 e C c'è anche non solo MSM di oschia che è la forma di zolfo che ha la funzione di disintossicare e ridurre l'infiammazione quindi direi che è un ottimo prodotto che come vedete notato consegna un sacco di vitamine e di benefici quindi ottimo e sono tutti prodotti anche abbastanza costosetti in generale sono come costo medio alto alcuni anche altri passiamo al terzo prodotto il terzo prodotto è questo qua ah no scusate ho dimenticato come si utilizza questo oscigalongo si utilizza si deve basteggiare sulla pelle asciutta aggiungere un po' d'acqua per l'emulsione e rimuovere con acqua tiepida o un panno nudo di mussola se non ce l'avete anche senza mussola passiamo al terzo prodotto che è questo qui si chiama Faccia Radiance Paid questo qua è molto buono è un esfoliante sono dischetti illuminanti per il viso con acido lattico e glicolico adatto all'uso quotidiano agiscono per uniformare la pelle riducono i pori diminuiscono le comparse delle roghette per una carnagione più luminosa liscia e giovane quindi ottimo prodotto questo qua non l'ho ancora provato come nessuno di questi qua però non vedo l'ora devo essere sincera c'è un altro prodotto che è questo qua carino questa è la confezione normale questa è l'unica perché per adesso sono tutte le confezioni ridotte anche questa è ridotta anche questa crema di cui sto parlando adesso ridotta però per provarla per fare la buona idea è ottima e comunque anche se sono piccolini costano questo si chiama Pre-Trout of Decolleté Cream quindi è una crema per decolleté specifica per il pollo quindi la zona del collo è una delle più resistenti trattamenti cosmetici per questo Rai ha ideato un prodotto apposta per idratare in profondità e migliorare l'elestercità della pelle del collo come si utilizza? applicare sul decolleté anche qua, in questa zona qua sul decolleté colleggere i massaggi picchettare con delicatezza dal basso verso l'alto salendo verso il mento quindi un'ottima crema perché questa qua si utilizza anche per il decolleté che sapete che è una zona più invecchia e faccia in mente fino ad arrivare al collo proprio specifica buona guarda che questa qua è la crema anche se uno la prova e gli piace e anche se questo decolleté vale la pena prenderla perché se si ha una certa età si sa che il collo e la parte del petto è una zona molto sensibile all'invecchiamento se questa è una crema specifica potrebbe fare comodo a migliorare la situazione notevolmente poi c'è un altro prodotto che si chiama che è questo qua che si chiama Avant Mostuar Suge Overnight Trattament che è il trattamento è il trattamento idratante durante la notte quindi si usa durante la notte questo crema idratante che mira trattare e reidratare intensamente con un aspetto sano ricco di antiossidanti vitamina A e E combinazione di burro di karité olio di mandorle e alghe la sua funzione è di rassodare e ridurre le ruche e l'aspetto anche delle linee sottili inoltre aiuta contro i raggi uva e uvb per le altre saranno un altro prodotto che è questo qua è H è una crema a vitamina arricchita con crema da rileggo crema a vitamina arricchita con crema da giorno e le vitamine presenti sono la B3 la C la Red estratto di alghe che ha un effetto sui danni UV all'interno c'è anche la zucca enzimi burro di karité e olio di vinaccioli quindi sono dei prodotti specifici che ci si trovano in questa crema e H quindi è una vitamina da giorno molto idratante viene di queste vitamine che vi ho appena dei benzini particolari come si usa sulla pelle pulita con una piccola quantità sul viso e collo limitando il contorno occhi utilizzando mattina e sera scaldare la crema nel palmo delle mani e delicatamente sul viso e dei coltè quindi questa sembra una crema che sbosare dappertutto da tutti i giorni però non specifica andiamo avanti c'è quest'altra crema qui laboratoire laboratoire florga tari miso mask quindi questa è una maschera questa maschera cosa fa? è una maschera dermolevicante che illumina il tuo volto la maschera lisce sulle rughe e cancea dei segni di stanchezza grazie alla sua azione levicante della presenza di polistracalidi del complesso di nctf piccolo la caratteristica che c'è qua dentro questa crema come si utilizza? si usa sul contorno occhi sul collo e del coltè quindi soltanto su queste zone va bene per tutti i tipi di pelle come si utilizza? applicare in modo uniforme uno strato abbondante della maschera sul viso lasciare a giro il prodotto per 15-30 minuti infine risciacquare carino carino mi piace questo qua questa qua invece è una crema forzone normale grande ed è Elmis Elmis Pro Collagen Marine Cream è una crema da giorno antilughe che era soda levica idrata i ingredienti antivecchiamento pro collagene stimolano la produzione di collagene ed elastina per tutti i tipi di pelle poi l'esclusiva alga mediterranea che è presente qua quindi l'alga mediterranea padina pavonica è miscelata con il Gingo Bimboa offrendo una protezione da radicali liberi superiore uniti a rose e musa mi avrà fissuto e quale immagino non va adesso perché ho altre creme quindi non vorrei comunque ci sono una rosa di muro quindi è che un debilatore deve avere passiamo a un altro prodotto questo Wild Rose and Cream crema che crema per le mani di rosa di rosa c'è anche dietro la rosa c'è anche scritto che dirà c'è dentro la rosa allora cosa fa questa crema mani vediamo sicuramente io le ho già provate anche due anni fa le creme mani sono molto buone cioè un black proton due anni fa è fantastica veramente molto qualitativa cioè rende le mani assietosissime questa qua non ho ancora provata ma di sicuro il costo è abbastanza alto quindi non è una crema banale anche questa avrà un suo perché andiamo avanti procediamo con uno bellissimo queste cose io adoro questo bellissimo e bio è questo è poco ma costa un vuoto questo bisogna fare bio effect F serum for improved appearance on skin quindi si tratta di un trattamento di bellezza anti età di nuova generazione ed è a olio come si vede bio effetto di siero all'olio questo piccolino ho quasi tantissimo allora quindi il subveniente chiave è l'attivatore cellulare EGF che si trova naturalmente nella pelle umana che ha capacità di accelerare il ricambio cellulare all'interno della pelle rendendo la carnagione più giovane luminosa e rivitalizzata è naturale ed è ottenuto questo prodotto dalla pianta dell'orzo dell'islanda prima di coloranti conservanti e profumi quindi un prodotto anche naturale ottimo andiamo avanti come si utilizza questo serio all'olio è consigliato per l'applicazione serale per il rinnovamento cellulare mentre la pelle riposa sul viso pulito stendere 2-4 gocce e picchettare gentilmente nell'area del contorno occhi ideale per tutti i tipi di belle acne questo qua è solo per il contorno occhi deve sapere molto bene questo è molto buono poi c'è un altro prodotto che è questo qua guardate quanti prodotti ci sono ottimi e fantastici veramente conto da soli che è questo qui si chiama Living Proof Perfect Higher Day quindi è un prodotto per i capelli specifico allora gli ingredienti con ingredienti e tecnologie per la cura dei capelli mai usati prima e senza parabeni sforfati o simponi questo è un prodotto sealing 5 in 1 perfetto per i capelli quindi 5 in 1 Perfect Higher Day PH D una formula multitalento che tratta e rafforza che tratta acconciature in una volta per un grume liscio rafforzato condizionato e lucido come si utilizza sui capelli puliti e umidi distribuire uniformemente il prodotto dalle radici alle punte poi se si vuole un migliore ancora risultato si deve si asciugare andiamo avanti poi c'è questo prodotto qua invece che cos'è un olio nel corpo secco naturale al 100% serve per idratare la pelle dopo la doccia o prova gli effetti rilassanti dell'automassaggio un olio contiene rosa diala e basilico invece questo prodotto molto brown london per lavarsi nel bagno al pepe nero e al gel e il gel dolce quindi per lavarsi ha un buon profumo sentiamo notevole un buon profumo come dici qua perché non sto a dare un'esata un'esata profumazione però come dici qua al pepe nero e al gel dolce ha un ottimo odore non so cos'altro dire proseguiamo questo è un prodotto molto costoso molto valido che l'ho provato anche due anni fa ad esempio lo stesso calendario è diverso non è proprio uguale cambia anche all'estetica ma anche perché non si mette il prodotto ma sono veramente buoni si chiama Connorsmica Butepest Anderoli è idratante questo prodotto rinfrescante ed è stato ispirato dalla regina Dungheria Dungheria acqua nel XII secolo quindi è un'acqua per rinfrescarsi profumata che idrata come si utilizza usare lo spray usare lo spray profumato di rosa perfetto per un pick up di mesogiorno o come toner post-pulenzia ottimo per la secchezza opacità ingredienti potenti minerali la carnagione apparirà più soda più elastica anche il giovane quindi questo qua volendo si può usare sia quando si è lavata la faccia quindi se fatto il trattamento di lavaggio quindi dopo si può applicare questo con la pelle asciutta e poi si mette la crema oppure per rinfrescare la pelle perché comunque è idrata è idrata la pelle fondamentalmente e la rinfresca con un piacevole odore andiamo avanti poi c'è questo po' più qua Caudalie Vino Pure Clear Skin Polifying Toner questo qua è adatto è un tonico per le miste la lozione è arricchita con acido salicilico naturale polifenoli di vinaccioli d'uva gli oli essenziali bio purifica la pelle e la prepara al suo trattamento quotidiano i pori sono ristretti e le imperfezioni attenuate quindi per farvi capire se questo è un tonico valido questo qui è un tonico che anche idrata la pelle e si può mettere sia dopo il lavaggio della pelle e poi dopo la crema oppure si può usare direttamente quando si è già truccati per idrattare la zona in un ottimo cosetto poi c'è quest'altro prodotto qua questo che l'ho usato ecco questo qua l'ho usato in una sola le palline cioè sono detto tre ne ho detto che una che cos'è questo prodotto allora si chiama bubble butt e body sono pallini effervescenti che profumano l'acqua durante il bando ve lo provate vanno benissimo l'acqua profumata e si esce profumata insomma non fa mai male poi c'è un altro prodotto che è questo qua che volendo potrete tirarlo fuori questa è la protezione che è una matita che si fa sceglie allora delilà delilà brown double indige higher brown il colore l'eserble 8601 allora il punto di posta della matita che è sottile non contiene parabeni definisce le sopracciglia con la matita retrattile il tuo pennello dell'asce questa matita presente da una parte un pennello sottile è una formula cremosa e un colore naturale lo scollino integrato all'estremità opposta aiuta a mantenere questo peccino in ordine lo faccio vedere è una forma molto precisa perché è un gianto pannello e questa forma è davvero molto precisa è un colore leggero quindi si spuice si spuice non troppo perché sapete che se spuice troppo si spuice è tipo un colore nero in realtà mi bruttisce va molto troppo mattato anche un po' invecchia invece così è più naturale perfetto proseguiamo allora gli eco London lascia alert mascara black che non ho ancora provato che particolare perché mi ha fatto un curvo questo quello allora allora questo mascara effetto volume scaureno a erica contiene burro di karité forma resistente all'acqua lunga tenuta senza se fa bene andrebbe un po' però non l'ho provato buona mascara vado avanti questo invece è il prodotto che ho provato questo qua mellow matte lipid lip paint che è una formula formula cremosa lunga tenuta e una texture idratante ti daranno una copertura completa e nessuna finitura leggera asciutta ci sono 13 splendite tonalità questo prodotto al 100% vegano niente male non è una notizia da poco questo qua lo avevo usato mi è capitato di usarlo è un colore quello classico di rosa medio che sta bene con tutte queste occasioni si l'ho provato l'ho trovato l'ho trovata molto bene perché effettivamente non si asciuga completamente quindi non asciuga completamente le labbra è matte ma non troppo matte quindi le labbra non sono comunque un pochino cromose non completamente asciutte ed è confattevole e comunque di lunga durata quindi direi è un ottimo prodotto mi è piaciuto molto è un consiglio lip crayon e lip crea una definizione lunga tenuta e alta pigmentazione la texture cremosa scivola sulla pelle sfumatura sfumare su tutto il labbro per prevenire la pette del colore questo consiglio di li danno non l'ho provata questo comunque sembra lo stesso colore simile del vestito liquido andiamo avanti mi piace questa matita che ho avuto nera lord e berry travel black che il colore scivola sull'occhio per un'applicazione ultra fluida line shade è progettato per essere applicato nel contorno occhi e sulla linea di galleggiamento quindi non è una matita sfumabile più una matita da liner si può sfumare però poi i prodotti successivi che ho ricevuto sono questi pennelli luxi due pennelli per truccarsi da sfumature uno di precisione questo qua sarà di precisione tipolino questo qua di sfumatura largo rotondo sembrano qualitativi però non ho ancora usato perché non volevo più a mostrare il prodotto per usarli proseguiamo poi ho ricevuto questo slick make up highlighting palette di illuminanti non ho ancora provato questi illuminanti però sono dei colori devo dire abbastanza quindi allora c'è un prodotto sul giallo chiaro un prodotto sul giallo più chiaro rosa chiaro giallo chiaro è un rosa ancora più chiaro e questo invece è in crema quindi non l'avendolo ancora provato non so dirvi come generalità mi sembrano abbastanza comuni normali sulla qualità devo ancora provarli ho ricevuto anche una palette questo qua pensate l'ho ricevuta il primo giorno è fantastico insomma sta colpita della morfi allora always golden 9a moffy easy down palette ci sono 5 color pacchi uno shimmer uno brillante 3 settimane e sono colori che vanno bene per tutti i giorni non siete per una pressa classica per tutti i giorni vedete poi non l'ho ancora provata quindi non bisogna dire per fare i prodotti però penso che dovrebbe essere qua perché non si prova il prodotto non si può dare la potezza ok io concludo nel senso che vedete tutti i prodotti che ho ricevuto nel calendario di book fantastici pensate che non sono pochi e soprattutto sono prodotti che se voi guardate i loro pezzi che siano campioni che siano per entero come in questo caso sono prodotti di qualità anche costosi io ho terminato erano informazioni che ho cercato da sola perché mi corruzivano infatti l'ho voluto comprare perché mi era piaciuta due anni prima l'anno scorso non sono riuscita a prenderla perché l'ho pesata troppo tardi è andata a ruba e quindi sono i prodotti che comunque io mi informo perché poi utilizzo mi è piaciuto condividerlo con voi perché sono cose che a me piacciono vi auguro spero che questo video un po' lunghetto vi sia piaciuto e alla prossima